In queste puntate, la Euroregion des Minorances, presentat il Belancio di Diener, il Diaula Verzenis, ma da me a teatri, gli appuntamenti di settimana. Il ruolo dei Minorances Lenghistici in te Euroregion. All'estate chieste il tema di una convigna e par da buona interessante che si dà volta a Palaccio Antonini, organizzata dall'Ufficio per Valorizzazione del Furland al Comune di Udi, dell'Agenzia Regionale per Lenghe Furlane e del Centro Internazionale sul Plurilinghism dell'Università di Udin. E' stata l'occasione per fare i minoranci sulle dimensioni europeane, riflettendo sul ruolo che gli lenghi smangono i panduti separati in te Euroregion che gli adorano a Nasi, che la Euroregion stessa può dare vita al settore delle loro tutele e promozioni. Le relazioni sentono che ha di fatto due a spiace. Di una banda, la situazione attuale di tutela delle minoranze, di che altra la prospettiva di sviluppo che può rinviare in classe europea. I saluti dal sindicato di Udin Furiosa e dal Presidente Arlef Lorenzo Zanon hanno fatto entrare dormanti al vivere dall'argomento. Tanti altri allenatori. William Cisilin della Regione, Fabiana Fusco del Centro di Parla Plurilinghism, hanno descritto il panorama istituzionale e linguistico della Euroregion, un territorio grande che va dal Veneto a Cravoazio e passando per Carenzia. D'Aur ha sonvenuto le relazioni più tecniche dei rappresentanti delle comunità di minoranze. Marco Stolfo, perché fu l'ane. Maurizio Tremul, Presidente dell'Unione Italiana di Istria e Slovenia e Vito Paoletic, della Comunità d'Italianza di Pola, hanno presentato la situazione delle minoranze italiane in Slovenia e Cravoazia. Le minoranze slovene in Regione hanno afferrato Milan Buffon, Presidente dell'Istituto Slovene di Ricerche e Slori di Trieste. Per illustrare la situazione carinziana sono intervenuti Stev Kavafti, ricerchiatore del Slovenische Wissenschaftliche Istitut, e Marian Sturm, Presidente della Central Verbandes Slovenischer Organizzazione. Elsa Zardini, Presidente dell'Unione Generale dei Ladini di Stolomites e affevelato delle minoranze ladine, e Velja Plotzner, delle minoranze germanofone in TNV. La storia è dal Friul che è diventato teatri e maglie. All'Equisto il Spirit des Indemoneadis di Giuliano Ammusso e Carlo Tolazzi, lati insieme al Palamostre per i miei di Massimo Somaglino, con protagonisti il stesso Maglino e Sandra Cosatto, Marta Cuscuna, Fabiano Fantini, Michele Polo, Marco Rogante e Federico Scridal. Nel centro del spettacolo alle Ognosin, capitato a Verzenis dal 1270 voto. Siete fantatti dal Paese Terniel e fu intiappati di attacchi di isterie che da spaventare si slargiano a 40 di loro, maridati o vedranis, giovinis o vecchis. La possession dal demonio che aveva mudato a queste femmini in stris, si diceva a Verzenis, si mostrava qualche berlava e blestemava e ridevava sotto gli moschetti, facendo tanti bierti animali. L'Aglésia è provata a quinti a questo fenomeno con esorcizi e preieris, tutti di bant. La soluzione estrema è fuori che disierà 17 femmini in manicomi, mostrando tutta l'imbiostizia di fronte a queste nevrosi comunitarie. Il spettacolo ha rinti in maniera un'evole potente a questo dram, con una scrittura un'evole alta e un gioco intelligente e matetato, dunque la reazione del Stato e dell'Into per così di normale è per sicuro più violente dai matetti di queste femmini ribelli. Si chiama Belancio di Dienar e il Comune di Judino ha mai adottato, tantchè un'operazione per sclarire, c'è tantchè si fa per indrezzare migliore il ruolo delle femmini in te società, te lavoro e te formazione. Il Palaccio d'Aron ha scritto in questo documento, tantchè è una rappresentante del Consiglio Comunale, Cinzia del Torre, che si indica alla delegata proprio tra questi temi. Il Belancio di Dienar ha l'edito una banda della fotocittà, veduta secondo l'ottica delle femmini, ma le altre bande al CIR di rendere conto delle spese che si stanno affrontando per iniziative a benefici delle femmini, per aiutare le vittime di violenza e per tutti i servizi e le attività, che rendono in manco il penso la chiamata delle famiglie, che dispiace le cose sulle femmini e le vonde. Servizi, anche i Needs e le strutture per l'infanzia e per i bieli, che aiutano a avere un giuratore concreto, partendo con le case e le famiglie, ispirate che a manco dal punto di vista culturale essere insicurati opportunità, compagni, a uomini e femmini. Gli appuntamenti di settemane Identità, riscrizione culturale e letterale della femminina, folclore, danze e musiche di Val di Resia e di Arboridiens australiani, Marta 6 di novembre, ha scintato il pomeriggio, che sale con vigni di Palaccio Antonini, i nuovi suoni, finestre sul mondo, culture a confronto, concerti di Gialu Guruiwi al Didgeridoo e Mauro Colombis al piano, mercato 6 di novembre, ha scuotemieggio di sera al Palamostra. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori,